In apertura, oltre ai nostri titoli, vediamo anche una notizia che è arrivata da poco in redazione, si riferisce alla vicenda di San Valentino in Abruzzo-Citeriore. Ricorderete circa 250 persone che hanno avuto sintomi di disenteria e altri problemi che vanno via, comunque nel giro di 24-36 ore, ma accusati nei giorni scorsi legati alla somministrazione dell'acqua in San Valentino, appunto nel territorio comunale. Ci sono i risultati delle prime analisi che sono state comunicate e si tratta del batterio Clostridium perfringens. A breve il sindaco di San Valentino in Abruzzo-Citeriore avrà sicuramente emanato una ordinanza nuova in quanto questo batterio crea difficoltà anche a alte temperature e quindi termoresistente. Pertanto verrà allargato il divieto di consumo dell'acqua a scopo alimentare anche in relazione all'acqua che venga bollita. Quindi divieto totale di utilizzo di acqua a scopo di alimentazione. Ci saranno ulteriori analisi che verranno effettuate proprio nelle prossime ore anche in altri laboratori della ASL di Pescara, però la notizia, la prima notizia è questa che impone il varo di una nuova ordinanza. La notizia è stata data dal vice sindaco Lino Sciambra che vedete nelle immaticini, ha proprio la nostra redazione qualche minuto fa. Ovviamente maggiori approfondimenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale e anche sul nostro sito www.reteotto.it